Grazie all'assessore Sirotti, molte grazie a Marta, grazie alla direzione del festival per avermi ancora una volta invitata a questa bellissima piazza. Mi sentite? Si sente bene? Ecco. Certo, ci vuole un bel coraggio, ci vuole un bel coraggio a proporre un tema come questo, in tempi come questi. Ci vuole proprio un bel coraggio. Già in poesia è difficile, no? Parlare d'amore. Ricordate forse tutti la celebre, bellissima poesia di Saba? Amai tritte parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore, amore. La più antica, difficile del mondo. Ecco, già in poesia è difficile. Figuriamoci su una pubblica piazza in una situazione in cui, ecco, su questo vorrei esordire e dedicare un po' alcuni minuti di questa chiacchierata. in un momento in cui, diciamo, se voi leggete la grande stampa, tutto sembra normale, più o meno. E dunque non sono certa che ci sia una coscienza sufficientemente diffusa e soprattutto chiara e limpida e approfondita del, diciamolo, pericolo mortale che corre la nostra Repubblica. Io così lo sento o lo vedo. Ecco, io, se dovessi andare oggi a sentir parlare d'amore, ecco, mi sentirei un po' come uno che sta morendo avvelenato e gli offrono una torta alla meringa. Questa è la mia sensazione. Ora, questo io vorrei un pochettino però argomentarlo e farvelo vedere e poi chiarire anche perché io stessa parlerò di rinnovamento del cuore. Quando questo tema fu scelto, io credo, ecco, eravamo in un momento propriamente di crisi, non di marasma immobile come ora. Per quanto riguarda, voglio dire, diciamo così, lo spazio della nostra convivenza, il patto costitutivo della nostra Repubblica. Un momento di crisi aperto a esiti opposti, ma quindi anche un momento di speranza. Diciamo, un momento in cui si poteva sperare che la politica fosse sul punto di tornare, diciamo così, politica buona. Cos'è la politica buona? E la politica buona è la politica che consente ai cittadini di tornare a fare il loro mestiere perché c'è fiducia nelle istituzioni. e in realtà noi sappiamo che la nostra democrazia, la nostra Costituzione stessa lo dice, è tale che la politica è al servizio dei cittadini e delle persone, al servizio della loro fioritura, del loro sviluppo, e non viceversa. quindi c'era una speranza in questo senso di un vero radicale rinnovamento morale civile al punto tale che c'è stato appunto un momento in cui era possibile, è stato possibile o credevamo che fosse possibile eleggere addirittura un Presidente della Repubblica che è una personalità credo a noi tutti cara per la devozione che ha sempre mostrato nei confronti dei valori fondanti del nostro patto costituzionale e la sua attenzione estrema all'etica pubblica. Questa personalità è stata ospite anche qui e io pregherei che gli tributiamo un applauso di gratitudine che poi gli offriremo. Credo che glielo potremo offrire appunto nella registrazione ma le cose invece sono andate diversamente. Ora, certo, la vita privata e la vita interiore delle persone vale a dire la vita degli affetti e del lavoro da un lato la vita della cultura del pensiero dell'arte della poesia non possono cessare in ragione diciamo così della pericolo che corrono le istituzioni o il patto che ci unisce. Certo occorre poter parlare d'altro certo ma attenzione non credo personalmente non credo che sia moralmente accettabile parlare d'altro nel senso del far finta di niente occorre in qualche modo e anche se parliamo d'altro non far finta di niente perché non c'è rinnovamento morale e civile appunto se il cittadino non si prende a cuore in qualche modo è diciamo così ciò che fa parte del nostro comune destino del nostro stare insieme ecco altrimenti tutti noi e parlo proprio di tutti noi di voi che io credo nella maggior parte poi esercitate mestieri di educazione mestieri di cultura mestieri di parola ebbene tutti noi se facciamo finta di niente ecco ci comportiamo esattamente come quelli di cui ricordate Piero Calamandrei diceva che avevano dimostrato una cieca e dissennata assenza e nel momento in cui c'era ricordate quel vigliacco cialtrone che se ne stava a Milano abbastanza vicino a Chiasso in modo che se le cose fossero andate male poteva scappare e intanto mandava a Roma la sua bella marcia su Roma e molti tutti indubbiamente poi rispetto alla dirigenza politica nel nove subsole ma molti italiani anche si fecero da parte per fargli spazio ecco questa è appunto la cieca e dissennata assenza di cui parlava Calamandrei e ricordate la frase veramente rimasta storica di un tal Luigi Facta che disse nutro fiducia ecco in tempi di molto comparabili nutro fiducia ricordate che appunto Facta fu l'ultimo presidente del consiglio prima di Mussolini un altro presidente del consiglio ieri sera l'altro ieri sera l'altro l'altro ieri sera ha detto nutro fiducia bene è questo che io intendo per sentirsi come uno che sta morendo avvelenato e vedersi offrire una torta alla meringa e adesso però attenzione voglio chiarire molto bene questo paragone che vi ho proposto fra quel nutro fiducia e questo nutro fiducia perché non dobbiamo incorrere in equivoci ecco non sto assolutamente paragonando nessuno al cialtrone vigliacco di allora sto però dicendo che c'è qualcosa che rende quella situazione paragonabile a questa ed è il fatto che un Parlamento che mercanteggia sul principio dell'eguaglianza di fronte alla legge priva completamente di credibilità e di autorità le istituzioni ed è questo che io chiamo veleno è questo che io chiamo avvelenamento perché per tutti quelli che credo come noi non accettano e non vogliono accettare altra difesa nei confronti di noi stessi nei confronti della nostra libertà che i vincoli e le regole che noi stessi ci siamo dati per appunto mettere un freno alla nostra rapacità ecco per chi come noi crede che la sola difesa debba essere questa vedere che questa difesa è completamente smantellata beh è una situazione che ci rende agonizzanti la libertà badate è un bene troppo prezioso per mettere la mordacchia ma la libertà è anche qualcosa che noi esercitiamo nel 90% non nell'interesse di tutti o del bene comune e dunque è vitale che ci siano dei vincoli dei limiti una dimensione pre-politica del patto sociale senza la quale già lo diceva Sant'Agostino una polis una civitas non si distingue da una banda di briganti ecco allora io vorrei adesso siccome ho detto questo darvi cinque o sei fatti che in qualche modo diano evidenza a questo evidenza proprio nel senso di argomento a questo che sto dicendo e che dico assumendomene la piena responsabilità primo fatto appunto un parlamento che trasforma in negoziato politico la rivolta di un singolo contro la legge secondo fatto un parlamento che rimette in questione la legge una legge approvata all'unanimità è approvata per forza voglio dire ci mancherebbe pure che qualcuno non l'avesse approvata questa è una legge che semplicemente chiede che chiunque abbia commesso gravi reati in particolare reati contro le istituzioni non resti a rappresentare di fronte a noi di fronte a tutti i cittadini le istituzioni non è vero è il minimo bene un parlamento che la sta mettendo in questione terzo un capo dello stato e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo un capo dello stato che il 13 d'agosto fa un discorso di questo genere prendo atto della sentenza che riguarda un dato cittadino anche però sostengo che è legittimo da parte sua difendersi da questa sentenza di terzo grado difendersi politicamente legittimo badate questo presidente della repubblica ha opposto ha messo in tensione legalità e legittimità io mi chiedo che cosa debba succedere di più per alzarci in piedi quando un presidente della repubblica oppone questi due concetti quarto fatto sotto questo clamore sta succedendo ben di peggio ma ben di peggio c'è un parlamento che approva un decreto che assomiglia a un piedi porco voi sapete che il piedi porco è quell'arnese con cui si scassinano le serrature quando non si vuole usare la chiave quando non si vuole o non si può usare la chiave questo decreto piedi porco è appunto un decreto che serve a modificare come sapete l'articolo 138 della costituzione che è quello che stabilisce la procedura per cambiare la costituzione lo modifica questo decreto su due cose fondamentali i tempi e i modi ecco perché è letteralmente una deroga una violenta deroga di questa procedura che assomiglia a un piedi porco ma noi abbiamo assistito a moltissime argomentazioni di persone che ci hanno detto che non è affatto una deroga ecco per cambiare poi che cosa appunto abbiamo assistito a il seguente discorso c'è una legge elettorale che è in maniera conclamata anche se non ancora accertata ma conclamatamente anticostituzionale ebbene per cambiarla occorre inserirla nel pacchetto di modifica della costituzione dunque bisogna per cambiare una legge anticostituzionale e cambiare la costituzione ma è logica questa sesto fatto la grande stampa guardatela la grande stampa tutto questo è recepito e descritto come normale dialettica politica oppure normale dialettica d'opinioni veramente vi è voglia di dire i fatti levatevi via per lasciare spazio alle opinioni perché di fatti non ce ne sono più badate a un particolare c'è stato in questi giorni ci sono stati quasi mezzo milione di cittadini che si sono appellati alle ragioni espresse dai migliori costituzionalisti italiani per chiedere di non avanzare con questo piedi porco a scassinare la porta d'entrata della costituzione bene molti non ne hanno neanche sentito parlare perché comunque sulla grande stampa non se ne è fatto quasi cenno e anche questo è veleno a me sembra ecco allora che cos'è questo veleno approfondiamo approfondiamo la natura di questo avvelenamento appunto si lega tutto alla parola se volete normalità tutto ci pare normale ma questa normalità cos'è se non lo svolgersi dei fatti badate c'è qualcosa di osceno letteralmente di osceno nel dire poiché qualcosa accade allora è giusto che accada questo quindi questo allora è osceno e tuttavia è quello che si propina alla coscienza comune in dosi così massicce che quasi finiamo per crederci quasi o credo ormai definitivamente nella parola normalità nessuno più sente la radice la norma tutti sentono il fatto così com'è e questo è terribile perché questo è un sintomo di corruzione del linguaggio che non non ha veramente non ha limite come possiamo riassumere in termini filosofici questa situazione stiamo facendo filosofia non credo di uscire dal dettato del ragionamento filosofico noi stiamo permettendoci di non fare più distinzione cioè di confondere fra diritto e potere fra giurisdizione e politica quindi più generalmente fra il vigente dover essere e il fatto e la forza il fatto di delinquere il fatto di voler continuare a delinquere il fatto che determinate forze spingono verso determinate le modifiche delle regole fondamentali del vivere comune e la norma a questo punto deve cedere di fronte al fatto tutto ciò che è reale e razionale ora Kant ce l'aveva già detto molto molto chiaramente che cosa vuol dire questo quando avviene a livello dei fatti qualcosa di criminoso diciamo pure la corruzione a livello fattuale è una cosa la corruzione del diritto è ben altra è ben più grave cosa perché naturalmente la corruzione del diritto la corruzione del dover essere la corruzione della norma è ciò che ci toglie per sempre fino a quando il diritto è corrotto la semplice possibilità di distinguere fra corruzione e onestà idem la corruzione del linguaggio anche su questo Kant è stato molto chiaro una bugia è una cosa ma la menzogna sistematica che invade il linguaggio al punto di stravolgere il senso di tutte le parole è ciò che in definitiva non ci permetterà più già non permette più a livello di spazio pubblico spazio delle ragioni spazio dell'informazione spazio televisivo dei dibattiti di distinguere fra il vero e il falso questo è terribile anche qui non voglio parlare a vuoto facciamo degli esempi di svuotamento e stravolgimento del senso delle parole una deroga per esempio ho fatto l'esempio di prima non è una deroga per carità si parla tanto di responsabilità fino a stamattina ne ho sentito parlare nelle rassegne stampa si responsabilità è un termine che ormai viene sistematicamente usato da quasi qualunque politico apra bocca come sinonimo di omertà peccato che omertà voleva dire un'altra cosa ma la si chiama responsabilità e così passa tranquillamente o addirittura che per dire illegittimità si dica legalità e viceversa o addirittura che si dica democrazia intendendo consorteria ecco vedete qui sono esempi che credo voglio dire sono attestati quotidianamente ma li trovate molto diversi da quelli di quelle famose neolingue dei famosi ministeri della verità di altri mondi possibili in cui appunto libertà è schiavitù in cui guerra è pace in cui ignoranza è forza naturalmente a questo punto è ovvio che illegalità sia legge ecco ma questo cosa vuol dire questo vuol dire che non abbiamo più le parole per fare per fare semplicemente il nostro mestiere di uomini e di cittadini vuol dire che il parlamento indubbiamente si è ridotto a un teatrino io volevo fare un piccolo inciso c'è il presidente del senato che aveva promesso nell'insediamento del suo mandato di rendere il parlamento un luogo di lavoro come tutti gli altri in questo paese voi sapete che il parlamento lavora nei suoi rami dal martedì a mezzogiorno al giovedì pomeriggio e vi pare questa una cosa decente d'altra parte d'altra parte è indubbiamente un teatrino perché le parole sono comunque sempre usate così allora le parole possono essere usate così anche sul nostro spazio pubblico sul lagorà diciamo così della nostra vita di cittadini ma non dovrebbero non dovrebbero perché altrimenti le basi di una democrazia sono totalmente erose ed è per questo che ho parlato del grave pericolo che corre nostra Repubblica ecco in queste condizioni come si fa a parlare d'amore in queste condizioni io dovrei parlare d'amore ebbene sì e lo sto facendo da quando ho cominciato anche se non sembra sto parlando del solo tipo d'amore di cui non mi vergognerei a parlare di questi tempi è l'amor di patria sto cercando di parlare e suscitare in noi un filo uno straccio di amor di patria allora qui ci aiuta Saba perché quella poesia che si cita sempre nei primi quattro versi non finisce lì siccome è brutto però spezzare l'armonia dei versi proviamo a rileggerla con la strofa successiva amai trite parole che non uno osava mi incantò la rima fiore amore la più antica difficile del mondo amai la verità che giace al fondo quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica con paura il cuore le si accosta che più non l'abbandona ecco questo è molto bello credo questa seconda parte e non è sbagliato insomma il tedesco che dice chiama la poesia Dichtum in qualche modo accennando a un suo potere di addensare Dicht significati no quanti pensieri addensati come dire in queste in queste parole evidentemente quella verità che giace a fondo non disdegna le parole trite le parole usurate e anche si riscopre attraverso il dolore si riscopre come fosse stata obliata dice Saba in una nebbia di sogno cosa vuol dire una verità che si riscopre attraverso il dolore ecco vabbè questa è la mia tesi centrale la cognizione del dolore è la cognizione del valore e questa è un'esperienza che tutti abbiamo noi scopriamo o riscopriamo la preziosità di ciò che è prezioso sempre quando siamo sul punto di perderlo o l'abbiamo già perduto ecco io sto cercando oggi di verificare la verità appunto di questa affermazione non su diciamo così un dolore privato ma su un dolore pubblico e sto cercando appunto di far senso di questo dolore dicevamo si scopre il valore di qualcosa quando si è sul punto di perderlo e beh io credo che noi siamo sul punto se ancora non l'abbiamo già perduta di perdere una patria ecco e vorrei anche questo dirlo con un po' di evidenza con un po' di argomenti perché il termine patria può anche fare paura naturalmente pensate che in Germania dove a differenza che da noi si è fatta molta come posso dire catarsi cioè riflessione su ciò che è stata la storia educazione a non ripetere gli errori del passato eccetera e in qualche modo c'è una tendenza a rifiutare la parola Vaterland per la parola Mutterland chiamiamola anche noi matria se preferite patria o matria sono comunque parole che hanno una connotazione di valore positivo io vorrei proprio per evitare ogni retorica che è il peggio che si possa fare in queste condizioni mostrarvi nel dettaglio in che senso l'amore può scusate il dolore dell'amore parliamo dopo può essere una fonte di conoscenza sperimentale del valore che sta in via di distruzione e vorrei fare un esempio su due valori possibili in via di distruzione vale a dire i valori come tali non possono essere distrutti sono i beni che li incarnano che vengono distrutti il primo è bellezza bellezza beh in questa piazza non è necessario spiegare cos'è l'Italia è tuttavia piena di queste piazze ed è piena di paesaggi storici oltre che di paesaggi naturali e non c'è luogo d'Italia dove questa bellezza non sia in questo preciso momento dissipata non mi voglio soffermare su singoli fatti io credo che la cementificazione soprattutto delle coste oggi ma anche delle colline che erano quelle che so io dei pittori rinascimentali o dei macchiaioli piuttosto che lo squarciamento delle montagne con immense opere strutturali da molti giudicati inutili piuttosto che il far passare appunto autostrade inutili nei luoghi più preziosi e più fragili piuttosto che appunto il riempire le le nostre coste di demenziali porticcioli turistici che sconvolgono l'equilibrio mare e terra e distruggono non solo le spiagge quindi le risorse anche economiche ma naturalmente tutto ciò su cui le ruspe passano comprese l'archeologia di cui ancora sono piene le nostre baie bene tutta questa distruzione ecco tutta questa distruzione ci dice un elemento fondamentale della nozione di patria quale patria come terreno e fondamento in quanto patrimonio comune è della nostra identità morale e spirituale e questa la terra dei padri o delle madri è indubbiamente il passato il passato di cui Simone Weil diceva che la sua perdita è una tragedia non per il passato stesso ma in quanto nutrimento dell'anima nostra in particolare quindi della nostra a livello esistenziale a livello spirituale della nostra identità e questo è un punto ma l'altro bene prezioso che si scopre dissipato ma non c'è dubbio che sia la giustizia che cosa vuol dire la subordinazione sistematica quotidiana spietata del diritto alla forza se non l'abolizione di qualunque fondamento di giustizia è questo ecco allora anche qui diciamo abbiamo forse un'altra caratterizzazione di ciò che patria può voler dire se nel senso precedente legato al valore bellezza lato senso la patria voleva dire in fondo l'eredità del passato il patrimonio comune e quindi l'ambiente di senso che ci circonda comunque ecco in questo secondo senso patria vuol dire e vuol dire l'idea l'ideale costitutivo del nostro stare insieme il patto che definisce una res pubblica giustizia e naturalmente è un ideale appunto ideale cosa vuol dire che appunto non è un fatto è un dovere è un doveressere è una norma è un diritto ecco e naturalmente la sua dissipazione è la dissipazione della patria in questo secondo senso notate bene ci può tornare ancora in mente Saba il magnifico Saba quasi un sogno obliato sì perché per un sogno di una patria così che uno non si vergognasse a dire che ci apparteneva beh sono morti anche parecchi dei nostri padri e delle nostre madri bene e adesso vengo all'ultima parte diciamo di questa riflessione e cioè come c'entra tutto ciò con il rinnovamento del cuore perché pacta su un serbanda nel piccolo come nel grande e io ho promesso di parlare del rinnovamento del cuore e certamente vorrei mantenere questo impegno ora come c'entra tutto questo beh c'entra moltissimo ricordatevi la questione iniziale la questione iniziale era ma non staremo facendo finta di niente così parlando di tutto il cielo l'iperuraneo il simposio il cavallo bianco il cavallo nero la filologia dell'amore non staremo facendo finta di niente rispetto a quello che sta succedendo perché appunto il dubbio era che altrimenti saremmo tutti in qualche modo partecipi e complici di quella cieca e dissennata assenza di cui tanto si lamentava Piero Calamandrei e allora io vorrei provare a fare una fenomenologia dell'assenza per così dire dalla quale dovrebbero cioè che dovrebbe dare evidenza per un paio di tesi che voglio proporvi perché stiamo facendo filosofia non politica stiamo facendo filosofia ecco che cos'è questa assenza guardiamoci intorno e sembrerebbe una forma come dire di rassegnazione non se ne può più però attenzione una forma ecco che io non chiamerei disperazione ma in qualche modo assenza di speranza beh pensiamo ai nostri figli e subito ci viene da piangere no? assenza di speranza quasi conierei una parola disperanza per così dire questa sorta di quasi a questo punto atrofia analgesia in qualche maniera appunto non una rassegnazione matura ma in qualche modo l'effetto anche di una rimozione è per questo che possiamo forse parlare con con Saba di questo oblio di questa nebbia anche di sogno perché obliato ecco allora che cos'è il mondo che appare a questa rassegnazione a questa disperanza e che cos'è o come è il soggetto di questa disperanza noi beh il mondo che appare a questa stato d'animo se volete a questa condizione della mente e del cuore è un mondo banalizzato è un mondo che non ha più rilievi e rilevanze è un mondo privo di valore è un mondo indifferente è un mondo dove appunto sono tutti uguali tutto è uguale è appunto il mondo della indifferenza e il soggetto il soggetto che vive questo mondo che cos'è beh il soggetto che vive questo mondo se non si accorge di questa morte che ha dentro se non si accorge di questa depressione che è produttiva di indifferenza è il soggetto che semplicemente sta destituendo in sé la persona morale sta destituendo in sé la persona che a un certo punto dice è no per Dio ci saranno dei limiti lo sta destituendo in sé stesso ecco allora tutti noi conosciamo credo voi conoscete quello che una filosofa del novecento ha detto sulla cosiddetta banalità del male tuttavia vedete Hannah Arendt ha un limite diciamo nella sua analisi e cioè non ci ha detto veramente uno in cosa consista questa banalità due in cosa consista la come dire situazione condizione del soggetto diciamo così coinvolto nel male banale o meglio ce l'ha detto ma ce l'ha detto solo in parte ha detto che in definitiva colui che destituisce in sé il soggetto morale colui che vi ricordate c'è una frase molto bella di Einstein che la dice rapidamente il mondo è quello che vediamo non per quei pochi farabutti che lo fanno così ma per quei molti che vedono che lo vedono e stanno a guardare e non fanno nulla allora Hannah Arendt parlava tanto dei farabutti quanto di quelli che stanno a guardare tanto diciamo del soggetto attivo quanto di quello passivo coinvolto nel male banale e però ci ha dato una spiegazione parziale di che cosa sia questo ci ha detto si chiama questa assenza di pensiero cioè prendiamo soprattutto il soggetto passivo il soggetto appunto che non reagisce che non risponde al male che non lo contrasta ebbene costui ha disimparato la riflessione nel senso del dialogo con se stesso in qualche modo l'elemento socratico del pensare da soli distaccandosi dal conformismo sociale la critica la riflessione giustissimo è quindi la sua diagnosi un deficit nella vita della mente un'assenza di pensiero non ha però aggiunto l'elemento più importante che questo deficit è un deficit nella vita del cuore che questo deficit è un deficit nella vita complessiva della mente in quanto il cuore della mente umana è la sensibilità al bene e al male fatti non foste a vivere come brutti e la nostra avventura comincia come diciamo così conoscenza del bene e del male questo è il cuore della nostra vita del bene e del male in tutti gli infiniti aspetti in cui se ne può parlare un pensiero che non sia sensibile ai rilievi agli abissi e alle alle vette che appunto mostra un mondo non banale un mondo carico di valori e di svalori un pensiero che non sia sensibile a questo è un pensiero stupido il pensiero intelligente è un pensiero sensibile ecco allora che da questa diciamo analisi emergono le due tesi che vi vorrei proporre e sono due tesi che riguardano fondamentalmente da un lato questa parola valore che ho costantemente usato e dall'altro è l'organo che noi abbiamo di percezione del valore del disvalore di ciò che è prezioso e di ciò che è orrendo nelle cose la sensibilità allora per introdurla in maniera un pochino intuitiva vi racconto un piccolo aneddoto che mi ha corso in Germania ho forse ancora cinque minuti spero di sì e del resto sono le parole conclusive quasi perché poi vi propongo queste tesi e concludiamo in Germania dove ho avuto la fortuna di restare quest'anno alcuni mesi ed ero a Berlino abitavo vicinissimo a una piazza che si chiama Kopenplatz molti dei visitatori di Berlino forse la conoscono perché è una piccola piazza molto bellina con dei giardinetti nella parte dei quali c'è come un tavolo e due sedie che come fossero messi lì diciamo da un comune particolarmente attento diciamo a così il desiderio magari di un passante di sedersi e prendersi qualche appunto in pace o mettersi a leggere eccetera una delle due sedie però è rovesciata e il primo istinto di chi non aveva mai visto questa cosa vedendolo magari da lontano è di andare a tirarla su naturalmente segue immediatamente una disillusione no non è un vero tavolino con una sedia rovesciata è un monumento è uno di quei famosi denkmele dei memoriali diciamo di cui Berlino è piena la sedia rovesciata in realtà è un segno il tavolo con due sedie di cui una rovesciata è un'immagine è proprio direi un'immagine del male perché è l'immagine di una casa violata e infatti sotto se si guarda bene questo memoriale è circondato da una fila di versi versi di Nelly Sachs chiamata il poeta del destino ebraico si parla appunto di ciminiere e si parla del corpo di Israele in fumo nel cielo una casa violata allora ecco perché vi ho fatto questo esempio perché vedete qui c'è un esempio che più intuitivo non potrebbe essere della mia tesi cioè del attenzione potere di motivazione che le cose hanno in quanto in qualche modo non vanno bene non sono in ordine così il mio primo diciamo impulso è stato quello di fare ordine poi dal resto le donne sempre hanno queste abitudini che ci sono sempre cose da fare c'è sempre ordine da fare in casa c'è sempre qualcosa che non funziona tirar sulla sedia e questa è diciamo così una piccola rottura d'ordine una sedia caduta nella quotidianità diciamo un disordine banale nel senso più come dire modesto del termine naturalmente l'esperienza di disillusione non è questo questo è un questo è un memoriale ma è qualcosa di più di un memoriale perché è proprio un'opera d'arte nel senso di quello che un'opera d'arte dovrebbe fare cioè cosa fa è un martello che spacca il ghiaccio del cuore precisamente improvvisamente si vive questo passaggio dalla ipotesi un piccolo disordine quotidiano e quasi non ci si riflette no? perché lo si rimette a posto potere motivante che le cose hanno richiedono che noi facciamo questo che facciamo quell'altro improvvisamente ti apre davanti agli occhi l'abisso del male che cosa è una casa violata e ti inibisce l'azione dice pensaci prima guarda che cos'è ecco questa esperienza non so mi pare di a concretezza l'idea che appunto le qualità che fanno le cose buone o cattive sono nelle cose stesse c'è nelle cose sempre nelle situazioni negli stati di cose negli eventi negli azioni degli uomini nelle nostre situazioni comuni c'è qualcosa sempre che chiede di essere diverso da quello che è adesso c'è questa requiredness un filosofo che è stato anche un grande psicologo la chiama così le cose chiedono questo chiedere è il modo in cui si manifesta il valore o il disvalore la casa violata chiede che questo non sia mai più così come nella sua modestia la piccola sedia chiede di essere rimessa in piedi ecco questo chiedere questo domandare diciamo i valori hanno posto in un mondo di fatti se questo è vero se quindi si contrasta la tesi assolutamente maggioritaria dovunque anche sulle piazze di modena in me che tanto i valori sono semplicemente gli dei oppure le opinioni oppure i sentimenti soggettivi oppure in ogni caso qualche cosa che non ha niente a che fare con la realtà e quindi con la ricerca di verità ricerca di verità cosa vuol dire anche con la ricerca di evidenza di sperimentazione di basi sulle quali puoi dire questo e quell'altro puoi emettere un giudizio di valore ora questo mi porta alla seconda tesi quella appunto sulla sensibilità o sul cuore ebbene la vita del cuore la vita della sensibilità lo dicevo anche prima è l'essenza della vita personale nel senso che è diciamo nel rapporto con questa realtà che sono gli aspetti positivi e negativi di bene e di male che le cose hanno a tutti i livelli e in tutta diciamo la gamma diciamo della loro sedia può essere utile o inutile se è messa per terra in tutta la gamma diciamo ecco la nostra sensibilità è quella che ci mette in rapporto con la realtà ma la persona umana come si costituisce e come forma e forgia attraverso l'azione la decisione la scelta ma prima di ciò attraverso il sentire che basa azioni decisioni e scelte come forgia se no la propria identità la propria identità personale dunque l'esercizio di questa sensibilità è il cuore stesso della nostra identità dimmi che cosa ti sta a cuore più e meno dimmi qual è la tua scala di priorità come si dice e ti dirò chi sei ma allora cosa voglio dire con ciò che ecco la categoria di rinnovamento e insisto del cuore è una categoria morale prima che spirituale perché anche la vita morale è una vita di conoscenza di ricerca ecco qui abbiamo il punto guai parlare di valori in quel modo in cui appunto vuoto e retorico no signora mia non c'è più religione signora mia non ci sono più valori come se i valori fossero dati nel senso della conoscenza dei medesimi nella loro incarnata diciamo realtà una volta per tutte ma no i valori sono conosciuti soltanto nella immervider ogni giorno rinnovata e dolorosa loro esperienza e con questa tesi io vorrei diciamo rispondere e con questo ho praticamente finito al dilemma di Guido Calogero Guido Calogero è stato un filosofo un po' dimenticato invece non bisognerebbe lo dico a tutti gli insegnanti che ci sono fate leggere ai vostri ragazzi un po' di Calogero che ha detto delle cose egregie Calogero pone questo dilemma come si fa a essere impegnati senza essere fanatici come si fa a essere a essere tolleranti senza essere indifferenti questo è il dilemma centrale del rapporto tra morale e politica bene come rispondiamo sulla base di queste due tesi beh dicendo semplicemente in primo luogo dando una definizione che cos'è il fanatismo bene il fanatismo è il dogmatismo vale a dire è la convinzione di valore che non è verificata di giorno in giorno che non è appunto che non è frutto di una rinnovata esperienza del cuore giorno dopo giorno quotidianamente e l'indifferenza cos'è? l'indifferenza è appunto l'ignoranza è l'ignoranza o l'ignorare l'ignoranza e l'ignorare che vanno così tanto insieme appunto nella banalità della coscienza indifferente nella normalità dei fatti confusi con le regole ecco allora qual è il rimedio? è appunto il rimedio è questo quotidiano rinnovare il cuore quotidiana e dolorosa esperienza del valore ogni giorno Immerwider è per questo che un grande filosofo che poi è Edmund Husserl poteva dire non c'è etica senza rinnovamento è per questo che è così come voi vedete un prato a primavera che è verde e non sarebbe verde se ciascun filo non fosse nuovo questo è il rinnovamento morale civile che non esiste senza il rinnovamento del cuore di ciascuna persona ciascun giorno e queste sono le radici profondissime della democrazia badate bene che Socrate in qualche modo già lo sapeva perché sapeva che se non è ogni giorno che si discute in piazza sul perché se non è ogni giorno che si chiede ragione di ciò che ci dicono di ciò che si dice non c'è democrazia che stia in piedi la conclusione ecco questa conclusione la vorrei porre in forma di domanda è una domanda che io vorrei porre a questo papa nuovo che si chiama Francesco e che dice anche delle cose molto affascinanti per certi versi bene io gli vorrei fare questa domanda qua ma come mai hanno tolto dalla liturgia cattolica e questo lo so perché me lo ricordo dai tempi in cui trascinata dalla mia nonna bambina seguivo la domenica quando ero con lei la liturgia di allora e come tutti i bambini ero colpita dal mistero del latinorum che ancora si diceva e cantava e la messa a cui tempi cominciava così il prete diceva salendo all'altare che era ancora come si usava allora introibo ad altare dei ad deum qui letifica juventutem meam stupendo salirò all'altare di Dio a Dio che rallegra la mia giovinezza o che ravviva la mia giovinezza perché è stupendo perché questa è una definizione sperimentale del divino io francamente non so se Dio esiste o no speriamo che esista ma non ne ho idea francamente non lo so tuttavia c'è una specie di definizione sperimentale nel senso che cos'è il divino se non ciò che ravviva la mia giovinezza ciò che mi fa sentire la rallegra in ogni momento anche il più disperato io non so ho difficoltà a non chiamarlo divino ciò che mi ravviva la giovinezza ecco in questo senso allora a Papa Francesco chiederei ma perché l'avete tolta quella frase lì che era la più modesta umile in fondo piccola ma sperimentale definizione definizione del divino e allora io direi che questa domanda può diciamo così concludersi non con una risposta ma con una ripresa dell'ultimo verso della poesia di Saba perché mica era finita quella poesia adesso vediamo se la trovo eccola qua e allora va bene mi prendo quest'ultimo minuto perché ancora una volta è peccato spezzare i versi rileggiamola tutta e vediamo come finisce a mai trite parole che non uno osava mi incantò la rima fiore amore la più antica difficile del mondo amai la verità che giace a fondo quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica con paura il cuore le si accosta che più non l'abbandona amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco ecco questa poesia scusate due parole perché anche qui la vorrei commentare un attimo solo cos'è questa buona carta lasciata al fine del suo gioco è certo è la carta in cui il poeta scrive certo però guardate le parole che sono così dense la carta il gioco nessuno di noi può evitare di pensare al gioco delle carte e cos'è questa parola fine che può voler dire sì il termine ad quad ma può anche voler dire la fine è chiaro che questa carta può essere anche la fine del gioco può essere la morte ma è veramente così o questa verità che si riscopre amica altro non è che questa esperienza qui questa che abbiamo chiamato del divino è questa esperienza di la mia giovinezza che si ravviva anche alla fine della vita anche alla fine del gioco e questa è un'altra parola per Renovatio Cordis e vi ringrazio grazie 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 grazie